Quando si parla di metodi di fusione, spesso ci si limita a considerare solo i livelli. In effetti, i metodi di fusione sono una delle caratteristiche più importanti dei livelli. A titolo di esempio, in questa fotografia, che ritrae un cielo, se vado a duplicare il livello di sfondo, che è l'unico presente, immediatamente diventa accessibile il menu dei metodi di fusione. Potrei utilizzare moltiplica, che rende il cielo molto più drammatico. Oppure potrei andare in direzione opposta e utilizzare scolora, che mi fornisce un cielo chiarissimo e, come vediamo, bruciato o quasi nelle alte luci. Un'osservazione importante è che si può modificare il metodo di fusione di qualsiasi livello, tranne uno, il livello di sfondo. Lo sfondo, come sappiamo, è bloccato e questo inibisce in generale alcune operazioni su di esso. Tra queste, la scelta del metodo di fusione. Questo è sensato, perché abbiamo capito che il metodo di fusione combina il livello a cui lo applichiamo con il livello sottostante. Il livello di sfondo si trova sempre alla base e non c'è nulla sotto di esso con cui combinarlo. A prescindere, ritorniamo per un attimo al metodo di fusione normale e andiamo a vedere se i metodi di fusione sono presenti anche altrove. I metodi di fusione sono nascosti quasi ovunque in Photoshop, in particolare nello strumento pennello. Quando selezioniamo un pennello e un qualsiasi colore di primo piano, naturalmente lo strumento ci mette in grado di andare a dipingere sul livello attivo. Non ho creato un nuovo livello e sto agendo sul livello duplicato poco fa. Il risultato dell'operazione dipenderà dalla scelta del metodo di fusione del pennello. Questo menu mi mette a disposizione una lista di metodi di fusione che è molto lunga. Alcuni di questi, tra l'altro, non risultano presenti nel pannello livelli. Mi riferisco in particolare a dietro e cancella, che poi andremo a discutere. Non è importante in questo momento mostrare il risultato di ogni metodo di fusione, ma facciamo esempi. Se, senza modificare nulla, vado a dipingere con colore brucia, ottengo un risultato molto diverso da prima. Se modifico il metodo di fusione in Sottrai, il risultato sarà ancora diverso. Il comportamento del pennello può sembrare difficile da prevedere, ma questo è lo scopo di questo corso, dare un'idea. Annulliamo l'operazione e andiamo a vedere se i metodi di fusione sono presenti anche in altri strumenti. Non lo sono in tutti gli strumenti e non ci sono tutti i metodi di fusione, ma ad esempio pennello correttivo al volo ha a disposizione alcuni metodi di fusione che sono peraltro meno di quelli visti fin qui. Troviamo i metodi di fusione nello strumento timbro clone, oppure anche nello strumento pennello storia. Ma anche senza fare tutta la panoramica di tutti gli strumenti, la cosa non si ferma qui. Ci sono delle operazioni come ad esempio il comando riempi che prevedono a loro volta l'utilizzo di metodi di fusione e come vedremo sono molto importanti. Ad esempio, posso andare a riempire questo livello con grigio al 50% in metodo di fusione normale. Non c'è un'anteprima, ma quando clicco su OK succede quello che mi aspetto. Il livello si riempie di grigio 50%. Torno indietro e nel momento in cui vado a ripetere l'operazione con un altro metodo di fusione, come potrebbe essere ad esempio Schiarisci, ottengo un risultato del tutto diverso. Non si tratta di metodi di fusione diversi tra loro. Ciò che accade nel pannello livelli o con i pennelli o con il timbro clone è universale. Succede lo stesso anche all'interno dei vari comandi. Un altro comando molto importante nella correzione del colore è applica immagine. Questo serve per operare dei complessi copia e incolla senza dover materialmente andare a copiare o incollare parti di un documento. E anche qui, alla voce fusione, troviamo i soliti metodi. Se io utilizzo il metodo di fusione normale e applico lo sfondo al livello sfondo copia, non cambia nulla. E questo è normale perché il livello sfondo copia già conteneva i pixel dello sfondo. Ma se invece vado a utilizzare moltiplica oppure brucia lineare, il risultato cambia. Se vado a utilizzare sovrapponi, avrò un risultato ancora diverso. Quindi, come vedete, i metodi di fusione sono veramente ovunque. Anche qui c'è una buona notizia. Ci basta imparare le loro caratteristiche principali sui livelli e poi applicarle a tutti gli strumenti e comandi che possiedono per l'appunto l'opzione di utilizzarli. Con questo siamo arrivati a un livello in cui è opportuno che cerchiamo di classificare e capire, perlomeno a grandi linee, se c'è una regolarità di comportamento nei metodi di fusione. Nella prossima lezione.